Speed Check arancioni sono ormai presenti in tutta la provincia, 125 in tutto quelli attivi che negli ultimi sei mesi del 2016 hanno permesso di elevare 6.123 multe con un incasso totale di 244.000 euro. I dati sono stati presentati questa mattina nell'audizione organizzata in consiglio provinciale da Svencnole e il suo movimento. Così si viene a sapere che a Bolzano 8 Speed Check hanno portato a 341 sanzioni. A Merano sono 12 e 966 sono state le sanzioni. A Chiusa appena 2 Speed Check hanno permesso di elevare 1.000 multe. Gli effetti sulla sicurezza stradale garantiti parola di vigili urbani. Per me costituisce patuglia permanente sul territorio. All'altezza del box è l'80% se non di più rispetto alle regole. Quello che succede prima e dopo già abbiamo degli elementi che non è più così. Quindi prima va veloce, rallenta all'altezza del box e dopo riprende la corsa. Quindi però io non è che posso istituire una serie di box in tutte le strade della città. Però il box dove è? È un deterrente e funziona. È una prevenzione permanente. E i vigili urbani assicurano che sono gli stessi cittadini a chiedere più controlli sulla velocità, soprattutto nei paesi. Adesso non so con Bolzano, ma veramente vanno la sindaco, vanno anche dalla polizia locale e chiedono veramente l'intervento della polizia locale per fare controlli della città. Perché tanti cittadini sentono questo problema della velocità eccessiva e chiedono i relativi controlli. Gli speech-check sono presenti in 39 comuni altoatesini, altri 14 stanno seriamente pensando di metterli oppure hanno già programmato la loro installazione.